Ciao a tutti, io mi chiamo Alessandra Rota e ho 45 anni. Insegno danza nella nostra città di Chivasso dall'ormai lontano 2003. Si sente spesso parlare della vita altrui senza realmente conoscerla. Se ci fosse qualcuno anche solo un pochino incuriosito potrà comprare il giornale La Voce online oppure lunedì 9 agosto acquistarlo in edicola. Grazie a tutti e buona lettura. Ciao!